Hola chicos, dopo aver fatto tutti e cinque i livelli del primo piano della Sansa di Balzo possiamo andare a sconfiggere Ripper Ro, basta mettersi in centro della Sansa di Balzo e premere il tasto verso su ci catavultiamo da Ripper Ro è troppo simpatico Ripper Ro, è uno dei miei personaggi preferiti, anzi forse il mio personaggio preferito di Crash Bandicoot di tutta la serie eccolo qui, è un canguro pazzo, ha la camicia di forza e cambia personalità lui saltella mettendo a terra delle TNT, che poi ci sarà un conto di rovescia e dobbiamo metterci all'angolo adesso non possiamo colpirlo, ma dopo si, dopo che mettere nitro noi ci metteremo qui appena esploderanno è semplicissimo è un folle Ripper Ro è un po' ok, primo boss distrutto quindi ora si fa il balletto Crash ci vediamo al prossimo video col secondo mondo ciao